Condizioni di forte maltempo nelle ultime ore al sud Italia per il vortice di bassa pressione che ha portato rovesce temporali anche violenti e purtroppo non sono mancati anche eventi alluvionali in particolar modo nella provincia di Cosenza dove picchi pluvimetrici anche di oltre 150-160 mm in poche ore hanno favorito l'esondazione di fiumi, allagamenti e frane con strade trasformate in fiume e auto trascinate via, auto trascinate via addirittura fin sul mare lo vediamo anche nell'immagine successiva vedete si commenta da sola. Nelle prossime ore purtroppo ancora rovesce temporali possibili ma c'è una buona notizia almeno da domani quando tornerà il tempo a migliorare grazie al rinforzo dell'alta pressione ma per tutti gli aggiornamenti e i dettagli vi rimando